Ciao, sono Zana di Turbola.it, questo è un update dell'ultima ora veramente importante. Il prezzo di Bitcoin sta precipitando, contrariamente a quello che ci diciamo ieri ha sfondato tutti i supporti, quindi sia la media mobile dei 50 giorni che la media mobile dei 100 giorni è stata sfondata. Il prossimo supporto utile è quello dei 200 giorni, quindi fate attenzione se fate trading proprio perché ci aspettiamo che il prezzo possa continuare a scendere. Ecco qua, il livello da guardare a questo punto è quello di 7.727 dollari circa, dove ci aspettiamo che si trovi il supporto. Che cosa è successo? È successo che sostanzialmente la notizia che domani spopolerà su tutti i siti dedicata è appunto che la SEC, quindi l'ente che supervisiona la finanza americana, fatemi abbreviare la cosa in questo modo, ha respinto l'appello dei gemelli Winkie Levos per l'ETF su Bitcoin. Ora, non è la fine del mondo, nel senso che questa era solo una, i gestori di Gemini, appunto l'exchange, i Winkie Levos, avevano appunto proposto la prima implementazione di Bitcoin, è stata appunto regettata, quindi respinta dalla SEC. C'è da dire che il sogno comunque di avere un ETF di Bitcoin non è assolutamente finito, perché a questo punto le cose andranno avanti con gli altri ETF che sono, con la valutazione degli altri ETF che sono stati appunto sottoposti all'ente. C'è anche un commissario che ha espresso il proprio, diciamo la propria, diciamo così, si è distaccata da questa decisione, ha detto che non è stata una buona decisione respingere questa proposta. La stampa ne sta un pochino parlando, ma la vera notizia ovviamente su Cryptocurrency, su Reddit, si è infiammato naturalmente a questa notizia. Però la realtà è che in questo momento appunto il prezzo sta precipitando e in questo momento non ci siano segnali particolarmente incoraggianti. Rispetto, ripeto, per tutti quelli che guardano il trading, il prossimo livello di difendere sarà appunto questa media mobile dei 200 giorni. Bene, da Zanni di Turbola.it è tutto, se il video ti è piaciuto ti raccomando di cliccare e ti chiedo di cliccare mi piace qua sotto sul pollicione, per me è molto molto importante. Spero di tornare domani con un video un pochino più sostanzioso. Grazie, al prossimo video!